ci troviamo qui oggi per fare un allenamento a corpo libero e oggi andremo a vedere l'allenamento che potete fare a casa vostra. Premetto che questo video l'ho paretamente copiato, io non sono prestata, anzi ho anche il cicetto. Sto provando a fare un esperimento proprio per me stessa. L'ho visto fare dagli street gorilla, vi metto il link del canale in descrizione. Per questi esercizi vi servono una corda che potete rubare da un porto e un tappetino se volete. Io oggi sarò a costo zero quindi non usiamo il radio. Servirà anche un telefono per mettere il timer. Io mi sono messa una maglia termica per sudare di più e quindi bruciare più calorie. Un esercizio che può essere sia per i polpacci sia cardio, salto con la corda un minuto e 20 secondi di recupero. Un minuto. 20 secondi e poi di nuovo un minuto. Pronti? Via! Iniziamo ad allenare il petto. Diamo un push up e poi 20 secondi di recupero. Piegamenti normali, 10-20 secondi di recupero. So fare questo video da un palestra quindi questo è un grande esperimento. Per me è riuscito a fare soltanto 6 piegamenti normali. L'esercizio dovrebbe essere così. Non ce la faccio a farlo. Che poi questo canale non è un canale di video, è un canale dove io metto cose che faccio. E in teoria questo è un circuito che si dovrebbe fare 4 o 5 volte. Vi lascio i canali in descrizione. Vedi i maestri che io seguo su YouTube li estimo davvero tanto. Provate a farlo, ho fallito. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi serva. Andate ad informarvi perché io non sono nessuno. Se volete consigliarmi altri esercizi a corpo lì però fate pure. Bella rica. Sbagliato.